Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video dato che ho fatto una cosa veramente allucinante oggi che non esiste né in cielo né in terra non lo so, infatti una giornata così non mi accadeva da oltre un anno settembre 2020 per la decisione, sì per cui ho deciso di fare assolutamente questo video portarlo, farvi vedere la magia la formula matematica che mi ha permesso di avere una cosa del genere lo so, sembra strano, però è così cioè io non ho mai detto cavolate, ormai mi conoscete cioè lo sapete che lo faccio un po' perché Robby un po' perché è anche il mio lavoro un po' perché anche mi piace una serie di motivi per cui faccio questo lavoro qua quindi io oggi vi porto questo video dove vi faccio vedere come ho generato 21.000 euro per la precisione tolte qualche perditina 21.000 euro in un giorno o meglio aperte la mattina alcune aperte il giorno sera altre due facciamo dai un lasso di 10 ore facciamo 10 ore vi faccio vedere come in 10 ore ho aperto delle operazioni che mi hanno letteralmente distrutto oggi tutto quanto e non sto scherzando motivo per cui adesso io vorrei farvi incentrare vorrei farvi vedere tutto quello che sarà anche un po' quello che avete visto avete già visto il sito chi già lo conosce, chi già non lo conosce per chi non lo sapesse ho lanciato un'accademia di formazione del trading che si chiama Wolf Academy dove ho tantissimi studenti che stanno già studiando tantissimi ragazzi che hanno altri risultati e tantissime altre cose che si possono scoprire man mano che andremo avanti nel tempo motivo per cui in questo video vi farò vedere parte della mia strategia alcune cose diciamo alla mia routine cosa ho fatto cosa non ho fatto che la maggior parte delle cose troverete dentro il corso di Wolf Academy qui vi ricordo link in descrizione il corso ottenuto da me in alta qualità sempre disponibile è sempre redatto e visto da me l'ho detto 100 volte visto e redatto però insomma l'abbiamo capito quindi oggi abbiamo fatto 22k il motivo per cui andremo a fare non so penso che offro a tutto il bar vado a un bar dico signori offro a tutti e si questa è una cosa che si può fare quindi ragazzi se volete fare cose del genere invece di stare lì a giocare alla play o andare a fare serata con 20 euro in discoteca sentite a me fate ste cose come si deve che poi usfrite veramente a tutta la discoteca non sto scherzando non è uno scherzo ci sono le dimostrazioni e ora le vediamo ragazzi come vedete in alto a destra ci sono io mentre a sinistra c'è il mio telefono che segna 90.000 tondi 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 come questo è stato possibile grazie alle 4 operazioni che ho aperto i 4 titoli valutari euro-aud euro-sterlina sterlina-dollaro e sterlina-yen che ci sono ancora addirittura adesso l'ho setto per qua ecco ci sono ancora le operazioni fatte poi ovviamente per me era troppo goloso il risultato di 20.000 e ho chiuso e forse anche da una parte ho fatto anche bene quindi come vi voglio far vedere questo è stato tutto lo storico di oggi guardate partito con GPBusd GPBusd poi avevo Ustyen che vabbè ho chiuso ma le principali sono queste infatti tant'è che quelle potenti da 2000 all'una sono GPBN GPBusd euro-sterlina che come vedete qui ha fatto 1900 e 1963 quindi come vedete sono tutte quante belle preimpostate ora ve le vado a spiegare la cosa più importante che voglio farvi vedere è che comunque le strategie che state guardando a grafico magari non capirete niente però tutto quello che vedete sapete che lo troverete sicuramente nel corso perché è una cosa molto molto importante capire il come si fa il come comportarsi quindi prima di andarvi a spiegare più o meno la strategia che ho usato in maniera molto rapida anche perché non ci posso spendere tantissimo tempo perché se no non finiremo più vi faccio vedere una cosa molto bella reale che è la cosa che più ci interessa ovvero c'è scritto FTMO Account EUR sarebbe FTMO ragazzi ve la faccio breve l'avevo già detto forse una società che gestisce capitali che ti dà in prestito dei capitali e tu li devi tradare per conto loro con dei limiti dei paletti eccetera 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 21.113 potete arrivare addirittura di più perché come vedete qui c'è Euroaud che è stata chiusa a 57 euro mentre Euroaud adesso sta ancora sprofondando come potete vedere da questa entrata perché il rapporto rischio di rendimento è 9,92 in realtà era qui era 10 però vabbè poco cambia perché comunque avevo già ottenuto l'obiettivo e quando avevo ottenuto l'obiettivo stavo qui in questa candela quindi ho deciso di chiudere perché tanto non mi serviva cioè potevo rischiare che questa andasse su e rovinare il lavoro dopo una fase di rigetto continuo dalla da questa zona che appunto è una resistenza e sono sceso quindi ho fatto un'entrata short ho venduto ho venuto fino a qua un'operazione di 3,23 precisa infatti poi è risalita ma sembra che rivolga a scendere non ci interessa noi siamo usciti e abbiamo fatto i due Euroaud ho fatto la stessa cosa ragazzi sono andato in short dopo che il prezzo ha ritestato più volte questa zona sono andato in short e infatti il prezzo ha tenuto bene non è mai andato praticamente nell'area negativa che sarebbe questa zona qui GPB used qui c'era una chiara magari voi non la conoscete ma è una chiara figura di continuazione di un trend perché qua comunque veniamo da un trend rialzista infatti ho sfruttato questa occasione all'una e mezza di ieri quindi ho messo un ordine qua e come appunto il prezzo ha rotto il resto è storia ragazzi è stata un'operazione da 9,37 veramente da pazzi tant'è che ha fatto guadagnare come ben leggete da qui l'una quindi non tutte e due l'una una 5.649 una 4.358 infatti sono loro che hanno fatto il botto nel vero senso della parola e poi infine c'è Sterlina Yen che ho aperto purtroppo stamattina alle 11 quando ancora il mercato non mi piaceva però come vedete Sterlina Yen e GPBus hanno più o meno la stessa figura vedete questa figura qui è praticamente uguale a questa figura qui infatti l'entrata ottimale era qua ma qui erano le 2.30 stavo già dormendo infatti come mi sono andato la mattina ho trovato un'entrata qui e sono entrato e ho fatto un'altra operazione da 4.8 che ne ho aperte addirittura tre una da 1.900 una da 2002 e una da 2006 ovviamente poi la somma siamo arrivati a 21 cioè io ancora non ci vedo perché una giornata così sono difficili sono difficili e l'ultima volta che l'ho avuta è stata purtroppo un po' di tempo fa un anno fa avete capito che c'è del potenziale in questo progetto ragazzi l'offerta scade tra un giorno tra un giorno i prezzi saranno aumentati questo è il sito della mia accademia dove tutto quello che avete visto come fare queste strategie come fare questi numeri che avete visto li potrete fare e replicare anche voi seguendo tutta la strategia che io ho intasato in questo corso in sette anni tutte le cose che più ritenevo opportune le ho messe in questi tre fantastici pacchetti che aumenteranno di prezzo quindi se dovete farlo ovviamente fatelo adesso è sempre disponibile il mio team whatsapp con cui si può chattare chiamare e no chiamare no chiamare se avete qualche problema con qualche sicario però avete whatsapp con cui potete parlare con il mio team per qualsiasi cosa basta andare anche su instagram ormai lo sapete ci sono tutti gli studenti che io sto seguendo tutti i risultati che loro stanno avendo ed è qualcosa di allucinante cioè è tutto provato ragazzi è tutto testato ci sono tutti i miei studenti con tutti i risultati guardate quanti sono quanti ragazzi stanno ottenendo risultati pazzeschi uno dei migliori addirittura ha una media di 100 euro al giorno poi c'è chi ovviamente ne fa di più c'è chi ne fa di meno c'è chi ancora sta testando in demo ragazzi ovviamente ognuno segue il suo percorso ma Wolf Academy è una realtà che è pensata per unire i migliori traders per cercare di far capire esattamente come si muove il mercato la psicologia perché ragazzi nonostante questi 20.000 oggi potevo continuare a tradare e perderne altri infatti è stato molto difficile chiudere e dire ok perfetto il mio giornale è finita ora basta magari registro un video e sulle mie storie di Instagram ovunque ormai l'accesso c'è se lo volete fare motivo per cui dopo che scadra ovviamente il prezzo è quello che è se invece ritenete che non vi serve state bene così potete ignorare questo video e fare finta di nulla perché significa che state bene dove state e non lamentatevi dopo per cui se anche voi stasera o sabato pomeriggio sabato a pranzo sabato mattina potete offrire la colazione ai vostri amici come farò io sicuramente potete farlo con Wolf Academy spero che in questo video vi ho fatto vedere un po' tutto come funziona tutto il resto perché ce n'è di potenziale ragazzi lo dimostrano i miei studenti lo dimostro io con le prove lo dimostrano le mie analisi che fanno paura quelle di oggi veramente non lo so spero che il video vi sia piaciuto ovviamente un bel mi piace commentate ditemi la vostra il link di Wolf Academy lo trovate praticamente ovunque sul mio profilo in descrizione ovunque lo trovate ormai accedete perché manca solamente un giorno io vi saluto grazie per aver visto questo video qua Anthony i21k di oggi è tutta l'ambaradan noi ci siamo al prossimo video ciao a tutti ragazzi